Un territorio ben conosciuto nella regione Friuli Venezia Giulia, studiato da moltissime persone per la ricchezza ambientale. L'area centrale delle api carniche rappresenta uno dei settori alpini di maggior interesse dal punto di vista geologico. Il tratto della dorsale carnica tra Passo Montecroce Carnico e Passo Premollo viene coinvolto direttamente nella Grande Guerra. Venendo dalla montagna austriaca, per me era ovvio che qui il lavoro in queste zone si svolge ancora in maniera molto manuale. I frusti da scuola, anche ormai che sono grandi avvinti, anche a 30 anni mi chiamano Ciavo, che è il soranone, a Paola mi conosce come Ciavo. Grazie per la visione!